Siamo a Palazzo del Bargello, oggi come possiamo vedere sono tanti turisti che sono tornati in città. Ora inauguriamo la terza edizione di Artisti Contemporanea, una rassegna che abbiamo fatto itinere in diversi luoghi della città negli anni passati. Ci siamo dovuti fermare per l'anno scorso e abbiamo rimandato appunto al 2021 per la terza edizione. Apriamo con molti artisti che vengono da diverse parti d'Italia, che oggi sono arrivati qui a Palazzo del Bargello. Lo inauguriamo fra qualche minuto e quindi è un'occasione per riaprire la Galleria Contemporanea di Palazzo del Bargello, portare un po' di persone e tornare a parlare appunto d'arte contemporanea. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 18 luglio, quindi invitiamo tutti a venire a visitarla. Tutte queste attività, queste iniziative rappresentano un segnale molto pieno di fiducia, di speranza, di ripartenza. Rendiamo vivi dei luoghi straordinari, quali appunto quelli nei quali ci troviamo oggi e naturalmente il Palazzo del Bargello è in sede di spazi espositivi di assoluto prestigio e vengono ravvivati da degli artisti contemporanei con questa direi virtuosa combinazione tra ciò che è antico, ciò che è medievale o ciò che comunque appartiene a tanti secoli fa e ciò che invece rappresenta l'espressività, la creatività del nostro tempo. Anche questo credo che sia un abbinamento molto positivo. Gubbio, peraltro, ha nelle sue corde anche una straordinaria tradizione che è quella delle biennali dell'arte, della scultura e quindi ha avuto sempre un occhio di particolare riguardo nei confronti della contemporaneità e anche da questo punto di vista benvenuti gli artisti e benvenuto il pubblico e questo luogo sicuramente rappresenta un modo per dare il benvenuto e per accogliere nella maniera più adeguata possibile. Benvenuti a Palazzo del Bargello, finalmente ci incontriamo con tanti di voi che hanno partecipato a questa rassegna d'arte contemporanea. Come abbiamo detto prima, torniamo in presenza dopo tanti mesi dietro a un monitor che ci ha visto impegnati nelle attività anche delle mostre online che ci hanno dato molte soddisfazioni, però l'attività in presenza, il ritorno alla visione delle opere di prima persona ha un fascino unico e ovviamente irripetibile. Colgo l'occasione di ringraziare lei anche per ringraziare gli uffici, quindi lo IAT, l'ufficio stampa che poi in realtà ci aiutano anche in qualche maniera a distribuire informazioni rispetto all'iniziativa. Credo che poter tornare a fare iniziative culturali e artistiche in presenza è senz'altro un ritorno a un benessere speciale, ovviamente ancora lo dobbiamo fare con tutti gli accorgimenti e gli atti prudenziali necessari, però credo che siano bellissimi messaggi di speranza, di fiducia, di rinascita e che cosa meglio di, come dire, tenere a battesimo una esposizione di artisti contemporanei in questo luogo che è uno dei luoghi dell'anima della città, perché ovviamente il Palazzo del Bargello dove ha sede la società dei balestrieri e dove c'è, diciamo così, una delle componenti essenziali del nostro folklore, delle nostre tradizioni, consente anche attraverso questi spazi di fare attività espositive di assoluto pregio. Io volevo fare un ringraziamento, prima di tutto, all'Associazione La Medusa perché chi in momenti storici come questi fa e promuove l'arte non fa altro che promuovere la speranza e quindi assolutamente onore a chi fa questo e poi certo un ringraziamento agli artisti perché ogni opera trasmette qualcosa di diverso è arte contemporanea e nel contemporaneo noi fondamentalmente viviamo quindi bisogna lasciarsi trasportare da tutto ciò che queste opere ci danno e ci trasmettono. Come avete visto, Palazzo del Bargello è una delle location storiche sicuramente più importanti di Gubbio in un punto assolutamente nevralgico nella via che poi porta verso la parte alta e verso il simbolo della nostra città che è Palazzo dei Consoli. Come diceva Elisa, la mia collega dialogano veramente l'arte a 360 gradi perché come vedete ci sono da pitture a sculture a fotografia e per la prima volta io inizierei a dire quelli che sono i nomi dei partecipanti e vorrei, ecco, chi è presente che venisse qui accanto a me. Paola Bradamante, Etty Bruni, Michele Cammarota, Elisabetta Donadio, Giovanni Galeardi, Maria Teresa Leuteri, Anna Maria Giannorio, Federico Grazzini, Elvira Landi, Francesco Mercadante, Gianpaolo Muliari, Flavia Nasrintesta, Franco Onali e credo che dovremmo avere uno dei suoi rappresentanti o Franco direttamente. Ben arrivata! David Palazzari, David è la sua prima esperienza, Cecilia Passeri qui accanto a me e Gianni Pontiroli. Quindi grazie veramente a tutti gli artisti che hanno accettato il nostro invito e vi ricordiamo appunto che la mostra Artisti in Contemporanea sarà ospitato qui all'interno di Palazzo del Bargello fino al 18 luglio. Grazie mille a tutti! Grazie mille a tutti!